La prego di porre una frena qui. Ma questo è accanimento però, signor giudice. È dovuto andare fino a Londra il dottor Giuliano per trovare la sua testimonia. Si calmi. Commissario, chi ha qualche risentimento personale nei confronti del nostro cliente? Si calmi. Si dà atto che la testimonia ha indicato nella seconda persona da sinistra uno dei rapinatori e che la persona indicata senza dubbio esitazione è l'imputato Pietro Marchese. Si dispone che venga riaccompagnato in cella e altre persone sono libere di allontanarsi.